Capitolo 29 Il freddo arriva subito, ed è dappertutto. Mi bagna la maglietta, schizza sulla maschera. Peggio del freddo, sono i loro occhi. Tutti. Mi fissano mentre il pancio mi gocciola sul viso. Tolgo la maschera per asciugare il liquido che mi sta entrando negli occhi. Asad scatta in piedi. Ava, mi dispiace tanto, stai bene. Ricacci indietro le lacrime. Vuole andare a casa. Piper mi tira per la mano e mi sottrae al turbigno di sussurri a cellulare alzati. Entriamo in un bagno con asciugamani con le iniziali popurri. Abbassa la tavoletta del water per farmici sedere e intanto passa la maschera sotto l'acqua. Il pancio rosso scende in un vortice nel lavandino insieme alla vernice bianca e al sogno di una serata normale. Se vuoi andare, andiamo, ma prima di decidere fatti rimettere in sesto. Mi tampone il viso con un po' di carta igienica inumidita. Spingo via la sua mano. Non posso continuare a ritrovarmi tra te e Kenzie, dico. Devi dirmi cosa è successo. Davvero avresti dovuto esserci tu alla guida? Piper non mi guarda negli occhi. Lascia cadere la mano in grembo. Sì, ok. Avrei dovuto guidare io. Avrei dovuto essere sobria. Avrei dovuto esserci io dietro il volante. Tutto questo indica la sedia a rotelle e poi il collo ustionato. È colpa mia. Sono stata io a provocarlo. La porta si apre e lentamente Assad entra in bagno, dove con la sedia a rotelle di Piper già non ci si muove. Tutto bene qui, annuisco. Sì, stiamo solo provando a capire come mai questa serata si sia trasformata in un disastro totale. Assad si chiude la porta alle spalle e io non posso non notare il suo ginocchio che preme contro di me. Beh, non lo definirei un disastro totale. Ah, davvero? Ribatto. Dimmi una sola parte che non sia stato un epic fail. e ti avviso che se citi quelli in cui hai tentato di ballare, significa che sei pazzo. Assad solleva le sopracciglia e alza il pugno come per colpire un sacco da box. Tira un gancio destro in aria. E allora la parte in cui le ho date al giocatore di Neandertal intendi quando lui ti è ammenato, chiede Piper. E qualche bel colpo l'ho piazzato. Non c'era bisogno che ti battessi per me. Assad abbassi il pugno avvilito. Pensavo di essermi battuto insieme a te. Io indico le macchie di succo di frutta che insanguinano la mia maglietta bianca e che si stanno già asciugando in cerchi viola scuro. E alla fine la battaglia l'ho persa io per colpa di un drink poco alcolico. Afferro la carta igienica che Piper si sta rigirando in mano. Non può trattarci così perché avresti dovuto guidare tu o perché adesso sono tua amica. E lei è la prima di aver sabotato la vostra amicizia. Assad ci interrompe. Non è esatto. Piper interviene. Lei dà la colpa a me. E io do la colpa a lei. E' un circolo vizioso di odio e che finisce con Ava innaffiata di pancia la sua prima festa. Fine. Non mi importa di chi è stata la colpa di tutto, dico. Dico solo che non è giusto. E tu? Cosa pensi di fare? Mi guarda fisso negli occhi sfidandomi a rispondere. Ti ho vista di là. Mimetizzata come al solito contro la parete. Forse dovremmo semplicemente andare a casa, propone Assad. Far sbollire la rabbia e posso accompagnarvi io. Va bene, dice Piper. Si spinge fino alla porta d'ingresso. Ma io non la seguo. Ha ragione. Non ho fatto niente. Come sempre. Dico ad Assad di far salire Piper in macchina e di aspettarmi. E poi metto Kenzie nel mirino. E' seduta in braccio a quel cagnolino del suo fidanzato. Accanto a lei e sul divano i biglietti di Wikt. I baffi da gatta disegnati con l'eyeliner le segnano il viso. Le lacrime le impastricciano le guance con il nero della punta del naso. Se sei qui per dimmi che è colpa mia, vai da qualcun altro, dice. Sono davvero stanca del gioco di Piper. Poi vedendo che sozzitta prosegue. Sai, quando sei arrivata ero dispiaciuta per te. Sul serio. Ma è come se tu volessi che io ti odi. Stai cercando di scavalcarmi nello spettacolo. Mi rubi l'amica. E poi vieni a casa mia con lei per... Che cosa? Sbandierarmelo in faccia. Mi dispiace se la tua vita fa schifo. Ma potresti smettere di cercare di rovinare la mia? Per mezzo secondo quasi provo pena per lei. Deve essere sepolta viva dal senso di colpa per l'incidente. E farebbe qualunque cosa. Per buttarne un po' su Piper. Tira su con il naso e mi fissa. In attesa che io dica qualcosa. Che c'è? Questa volta niente si pare da farmi cadere in testa. Riprende. Risucchiando la mia temporanea compassione. Voglio dire qualcosa di intelligente con cui pungerla. Voglio dirle che non può trattare Piper come un vestito che non usa più e me come una lebrosa. Ma con gli occhi puntati addosso le parole mi si prosciugano in gola. Senza pensare prendo i biglietti dal divano e scappo dalla stanza. Non mi fermo finché non sono fuori dalla porta di casa. Percorro il vialetto di Gaia e chiudo la portiera postero e dell'auto di Asad. Vai, vai, vai! Grido, picchiando sul suo schienale. Asad pigia sull'acceleratore, mentre Kenzie si fionda fuori e rossa di rabbia. Che cosa hai fatto? Piper mi fissa tra sedie del passeggero. Le imbosso i biglietti. Una cosa malvagia. Il cuore mi batte all'impazzata per almeno dieci solati. Rallenta solo quando le super regge lasciano spazio ai posti autocoperti. La risata di Piper riempie l'abitacolo e viene trasportata fuori dal finestrino o dall'aria della sera. Ah va, chi l'avrebbe detto che sotto quella guaina compressiva avessi dei cojones grossi così, dice. Asad fa una smorfia. Preferirei non pensare a quest'immagine. La mano di Piper fluttua fuori dal finestrino. Vola come la ragazza del suo ino Phoenix in a Flame, che mette al massimo volume, finché il ritmo del sintetizzatore non inonda l'abitacolo. Invece di tornare a casa a spiegare ai nostri genitori perché la nostra grande serata è finita alle nove e mezzo, ci fermiamo in una yogurteria. Io scarico la sedia a rotelle dal bagagliaio e la tengo ferma mentre Asad preleva Piper dal sedile anteriore, adagiandola sulla sedia con una tenerezza tale che vorrei dirgli di smetterla. Smettila di essere così gentile. Smettila di essere così carino. Smettila di ispirare così tanto affetto con i tuoi passi di danza maldestri senza averne la minima idea. Smettila di farmi provare emozioni. Al paradiso dello yogurt, Asad riempie di assaggi una serie di minuscole coppette, mentre Piper fa il pieno solo di vermicelli gommosi. Io ho ancora l'adrenalina in circolo, che invece di farla prudere mi fa ronzare la pelle di energia. Una donna mi dà un colpetto sulla spalla. Scusami, tiene per il braccio un bambino con i capelli rossi. Mi dispiace mettiti in difficoltà, ma mio figlio ha una passione malsana per i fiammiferi e abbiamo provato in tutti i modi che ci sono venuti in mente a fargli capire quanto è pericoloso. Il bambino torce il braccio nel tentativo di liberarsi dalla presa di sua madre. Lei lo tiene stretto. Forse tu puoi riuscirci. Piper mi spinge via, un vormicello gommoso mezzo masticato le pende dalla bocca. Dice, su serio, signora? La donna abbassa lo sguardo su Piper, sorpresa. Beh, pensavo solo. Lei pensavo solo che la mia amica sia uno spot ambulante del servizio pubblico per aiutare il suo stupido bimbo piromane. Appoggio le mani sulle spalle di Piper. Non c'è problema. Mi accuccio leggermente in modo da guardare in faccia il bambino, mentre la seconda idea malvagia della serata prende forma nella mia testa. Le vedi queste cicatrici? Il bambino annuisce. Sai come le ho fatte? Sai come me le sono fatte? Scuoto i capelli fiammeggianti. Ho una malattia rara, chiamata verdurite. Dico, cercando di non alzare lo sguardo verso sua madre, perché so che se lo facessi non riuscirei a continuare. La mia mamma mi ha fatto mangiare tutte le verdure che avevo nel piatto e io gli ho detto che mi facevano stare male, ma lei me li ha fatte mangiare lo stesso e la mia pelle è diventata così. Ruoto il viso in modo che possa vedere meglio le cicatrici. Il bambino spalanca gli occhi e si gira verso sua madre. Anche a me le verdure fanno star male, grida. Sua madre lo allontana da me con uno strattone, sul viso un'espressione di rimprovero. Dovresti fare giudizio. Io mi alzo in piedi e do un taglio alla sua filippica. Anche lei! La donna se ne va indignata, quasi dimenticandosi il bambino. Asad ride dietro la sua coppetta di yogurt e Piper mi guarda a bocca aperta. Davvero? Chi sei? Questa è la vecchia ava di cui abbiamo sentito parlare così poco. Faccio scendere lo yogurt agli oreo nella mia coppetta. Non so chi sia esattamente, dico. So solo che a un certo punto tra il pan c'è la signora che mi voleva usare per dare lezioni di vita al suo bambino monello e scattato qualcosa. Sono stufa di essere la ragazza bruciata.